Apriti alla voce di Dio. 16 febbraio 1976. Figli di Letti, sia pace a voi e grazia e ogni benedizione, poiché, pronti al mio invito e superando molte difficoltà, siete venuti qui per onorarmi e per imparare. La prontezza nel seguire le buone ispirazioni è il miglior coefficiente per portare a termine la vostra impresa. Voi usate dire che chi ben comincia è alla metà dell'opera, ed è vero, perché per cominciare bene occorre la buona volontà. La vostra opera è la vostra santità, e quel ascoltare la voce di Dio che vi chiama, sta ad indicare il desiderio di voler ad ogni costo migliorare, fino a raggiungere la perfezione. Non è limitata questa vostra missione, che anzi, più voi salite verso le altezze e più avete la capacità di condurre altre persone con voi, molte altre, forse a voi sconosciute, ma come voi figlie di Dio. Il mio Gesù operò nella sua vita molti miracoli, e questi stavano ad attestare la sua divinità e la sua potenza, ma stavano anche a testimoniare la fede di chi chiedeva di essere guarito, e la collaborazione e la bontà di coloro che stavano vicino ai bisognosi. Un giorno, per esempio, portarono a Gesù un uomo che era sordomuto. Gesù pose le dita nei suoi orecchi e un po' di saliva sulla sua lingua, dicendo, «Effatà, apriti!» Egli cominciò a udire e a parlare. Un altro giorno, passò accanto ad un cieco. Fece del fango, lo pose sui suoi occhi e quello vide. Qualche volta i malati non aspettavano di essere condotti da Gesù, ma andavano spontaneamente e supplicavano di essere guariti. Così il lebroso, ricordato oggi dalla vostra liturgia, e i dieci lebrosi che furono guariti e di cui uno solo ritornò a ringraziare. Per ottenere aiuti e grazie, voi vedete che occorre muoversi, occorre andare dal Maestro e, se volete una strada molto facile per arrivare a Lui, venite a me. Quante volte un atto di volontà, un sacrificio affrontato con serenità e con desiderio di bene, è seguito da grazie e grazie senza fine. Vi ho detto quanto è dannosa l'accidia, ma vi devo dire quanto invece è vantaggiosa la generosità e la prontezza nel seguire gli inviti di Dio. Tutto ciò che è bene, viene da Lui ispirato e i mezzi sono diversi. Voi dovete, ad esempio, essere strumenti di Dio per far sentire la sua voce e per intercedere il suo aiuto. Che sarebbe stato del sordo muto, del cieco e del lebroso, se il loro prossimo non si fosse preoccupato di far conoscere il Salvatore? Probabilmente non sarebbero guariti. La parola meravigliosa destinata a dare vita è il mezzo che deve entrare nelle vostre abitudini per poter richiamare altri. Apriti, vi dirà Gesù. Apriti alla voce di Dio. Apriti ai bisogni di tutti. Se ti apri a Dio, rivolgi a Lui pensieri ed affetti. Egli diventa il tuo motore e, animando d'amore tutto il tuo essere, ti rende efficiente. Se ti apri verso i fratelli, dopo una carica di spiritualità che ricevi, diventi capace di portare a Lui tutte le miserie da cui sei circondato. Quando un fiore apre il suo calice alla rugiada e ai primi raggi del sole del mattino, diventa un mezzo d'attrazione, perché gli occhi, in cerca di bellezza, si rivolgono ad esso. E nella sua piccolezza può far allargare il cuore e suscitare pensieri di bontà e di fede. Anche in coloro che non sono abitualmente delicati. Voi dovete essere questi fiori. Al tocco della mano benefica della vostra Mamma Celeste e alla sua voce che vi invita ad aprirvi, possiate agire come il piccolo fiore illuminato dal sole. Siate pronti, siate attenti, non vi deve mancare quella grazia attuale che vi è indispensabile per operare il bene. Non vi deve mancare mai il ricorso a Dio, il ricorso a me. Io guardo i vostri occhi, ed anche se non efficienti e se non rispondono alle vostre necessità, li vedo come lucerne che illuminano il cammino degli altri per quell'altruismo che vi fa dimenticare voi stessi. Guardo le vostre labbra e le sento pronunciare parole di bontà verso tutti. Mi compiaccio di esse, come se per un miracolo il mio Gesù avesse dato a voi un potere straordinario di comunicare. Guardo le vostre persone, e da molte sembra esalare un tenue e gradito profumo di purezza e di castità. Sì, siate sempre così come vi voglio. Siate gli angeli che comunicano ai malati d'ogni genere, che camminano per le vie del mondo, il desiderio infinito di Gesù. Apriti. Ed è così che i ciechi nello spirito vedono, i sordi odono e i lebrosi sono mondati. Figli, ciò che racchiudo nel mio cuore, desidero che diventi vostra proprietà. Ricevete l'amore di Dio e del prossimo. Ricevete la grazia, e che il vostro spirito sia sempre teso come per ascoltare una voce intima che vi chiami, momento per momento, a seguire il Maestro sulla via della santità. Vi benedico tutti ad uno ad uno. Arrivederci, figli. Vi attendo sempre con gioia.